18 mesi dopo il primo voto a suffragio universale al termine del lavoro dell'assemblea costituente la carta principe del nostro ordinamento la carta costituzionale è alla prova della firma è il 27 dicembre del 1947 quando a Roma nella sala della biblioteca di Palazzo Giustiniani la carta viene sottoscritta dall'allora capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il presidente dell'assemblea costituente Umberto Terracini il capo del governo Alcide De Gasperi e il guardasigilli Giuseppe Grassi la costituzione verrà pubblicata sulla gazzetta ufficiale con i suoi 139 articoli e le 18 disposizioni transitorie e finali ne esistono quattro coppie autografe oggi custodite negli archivi storici della Presidenza della Repubblica della Camera dei Deputati e dell'Archivio Centrale di Stato una quarta coppia da sempre di proprietà della famiglia del guardasigilli Grassi è stata poi donata all'Università del Salento Grazie a tutti! Grazie a tutti!